6 ottobre 2018, un sabato pomeriggio importante, siamo nel nuovo studio fisioterapico del dottor Malatesta che è qui con noi, studio che apre a San Giovanni Valdarno, oggi in via della Costituzione 88, dottore. Sì, oggi inauguro questo studio che per me è un importante traguardo, così come lo è stato la laurea, poi il corso di osteopatia, il corso sui trigger point, i vari arricchimenti che ho avuto occasione di avere durante la mia carriera, avere uno studio in una zona importante di San Giovanni in cui offro un servizio di terapia manuale, un servizio di elettroterapia e naturalmente la fisiochinesi terapia. Devo ringraziare in particolar modo Alessandro Parisi e Leonardo Pinto che mi hanno fatto conoscere un importante macchinario di elettroterapia che si chiama ENF che sta per Electro Neuro Feedback e che adesso vi presenteranno. Bene, e qui dietro di noi, l'abbiamo già vista, l'abbiamo sentita anche in descrizione, abbiamo la ENF ed il suo specialist che è il dottor Leonardo Pinto. Dottore, vogliamo dire qualcosa in più di questo macchinario veramente straordinario? Allora, sì, come hai già detto è un macchinario straordinario, è la nuova frontiera di quello che è la terapia strumentale. Infatti è già utilizzata nelle società sportive calcistiche, abbiamo ad esempio l'Udinese che la sta utilizzando, l'Inter, la Juve, addirittura anche la Nazionale Turisina. In questo momento il macchinario va a lavorare su quello che è l'impedenza, ovvero quello che è la resistenza dei tessuti, al passaggio della corrente. Noi abbiamo la possibilità di oggettivare quello che è la disfunzione dei tessuti e quindi andare a lavorare esattamente nel punto in cui si va a verificare la disfunzione. Questo è il primo centro aperto a San Giovanni Valdarno ed è l'unico autorizzato appunto all'uso dell'ENF, in quanto è una macchina assolutamente sperimentale e noi scegliamo le persone che possono utilizzarla e i centri a cui vogliamo affiliare questo macchinario, in quanto è anche molto articolato e molto complesso. Il dottore infatti ha già fatto un corso di formazione per l'utilizzo e inizierà adesso a far parte del nostro team dell'ENF.